Ciao amici del tubo, ciao a tutti, come state? State bene? Ma ci veo male? Cusci occhiale? Bottare sale? E allora ho fatto le fotografie per il rinnovo della patenta perché naturalmente è scaduta, quindi signori miei ho fatto questo rinnovo e quindi le fotografie che sono venute belle. Ho fatto tre fotografie, le voglio messe tutte e tre, dice signora solo una ce ne va e a me mi interessa, ci mette tutte ci, più piccoline, come fanno nel web, che fanno il montaggio delle foto. Ho fatto delle foto bellissime, una l'ho fatta così, scollata e con lo sguardo così. Questo è uno sguardo che se chissà mi fermano, dice chissà fui, ma ho capito, non ci possiamo con chissà, capito? L'altro l'ho fatto così, guardate, è simpatico, può capitare che mi ferma qualcuno, simpatico così? Può capitare, ci pare che è simpatico un'azza, chissà cristiana, manco per fareci la multa, mandiamola via. Hai capito? L'altro l'ho fatta senza gli occhiali così. Ecco, questo è per intimorire di più. Capito? A te per i residui ci facciamo a multa, a chissà, una paga. Hai capito? Mamma mia! Signori miei, ora mi hanno detto, capito, dice signora, forse dice lei c'ha dei punti levati nella patente. Hai dei punti levati? C'è come dei punti levati che io mi pigliare? Usa il vizio del bicchiere di bohemia. C'è il sio, perché signori miei, i punti non si levano mai. Uomo, uno fa tanto per raccogliere i punti e mi levate i punti, c'è il sio. Dice, vediamo quello che possiamo fare, sicuramente il servizio di bicchiere di bohemia ce l'avrà. I punti, dice, non ce li metteremo mai. Ho capito? Signori miei, qua siamo, purtroppo non ci accorgiamo. Ora anche la fototessera. La fototessera devo fare, tessera scaduta. Non so come fare la fotografia. Magari nella tessera la vorrei fare così. Che ne pensate? Va bene così. Oppure una più accattivante. Magari con i capelli di lato così, fatta così. È bello vedere una tessera con una con la mano così. Vedete? Tipo di dire tessera, tessera. Vediamo la tessera e già la vede così. Si vede come una persona tranquilla. Capito? Una persona a cui si può fidare. Perché la tessera serve per tante cose. Per qualunque cosa ci chiedono la tessera. Perché io l'ultima che hai unta tessera, venne scantata. Venne scantata perché me l'hanno fatta col flash e quella col botto. A domani, boom! E io vennerà così. Nella mia tessera sono venuta così, guardate. Perché mi fece scantare, capito? Ci ho detto, mi fa vedere la fotografia. Ai tempi non si faceva vedere. Paffate! E spuntavo io capare che avessi incunciato la quinta tessera. Ora che ce l'ho quasi scaduta, la fototessera la farò io in un modo che chiunque la apre deve dire, che so, un finanziamento in corso. La apre e deve portare fiducia. Tipo così magari. Questa deve essere la fototessera. Chi? Cettone. Ora capisco perché a Cettone non ci accettano prestiti, non ci fanno cose mediche, non ci fanno chissimi. Chi aprono la tessera e su? Tutti male come là? No, la tessera deve essere la firma della persona. Eccolo qua. Va bene. Dice, signora, mi deve, dice, mettere, mi deve fare una firma. Non so scrivere. Dice, con l'impronta digitale. L'impronta digitale ci si è. E che fare? Dice, pegare il suo pollo. Uno si è già. E mi vengono su, con il pollo, e c'è di quello. Un po' di lavare pieno di inchiostre. Ma come si fa così? Dico io. Ma, signori miei, dove è finita quella firma? Io segnavo sempre con la X. Capito? X. Dice uno che una volta aveva dei documenti miei, tutti con la X, e si è così. E fai cerisci in tasca di Dina. E' assurdo, signori miei. Assurdo, perché le squadre hanno pareggiato tutte. E chi lo sa mocco? I piccoli, i miei X. Cioè, dice, ma bravo, se manca una lira mi resti. Dice, no. Dice così. Dice, era un caso. No, un caso no, perché se mi stai dicendo che ti uccasci le miei X, l'aspirazione te l'ho data io. Comunque, va bene. Controllate pure voi le tessere, se le avete scadute. E preparatevi per le foto. Ok? Un bacio da Titina. Ciao.